a destra c'è uno e la madonna madonna che scarsezza quello dopo ma va bene ma stanno giocando 1 4 no è passato dietro il container quello blu stunnato io ho fatto male che farla guarda sulle chiappe preso dottato dov'è è lì dietro mamma mia o la madonna che classe che classe classe young class va bene bene momenti di tensione ecco l'ho visto si ma si ma non lo prendi con quello di questo fenomeno cosa ho fatto adesso sta passando qui a destra ho sbagliato perfetto ho sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare ma lui ha fatto peggio di più potrebbe essere la partita più una vittoria è flawless adesso che l'hai detto madonna cosa l'ho spaccato è qui sulla sinistra oh ma dai era flawless ma perchè cazzo è un fenomeno comunque american sniper e ho capito raga non c'è se crede non c'è se crede uno è nice grandi incredibile ci abbiamo fatto guarda che è entrato il nostro punteggio proprio team alpha incredibile bellissima è stata una vittoria quasi incredibile stratosferica quasi eh quasi io segnalo che stavo facendo 6-1 l'ho visto e qui davanti a me c'ha 14 hp 13 adesso stunato sopra sopra a destra destra ma da dove è passato questo qui che schifo va bene è sempre lì era sempre lì uno è in fondo solito head glitch foittato bravo che precisi guarda la padonna la precisione è dentro il container si sta pushando e io lo frega quello penso è l'unico punto che sia wolvengabile tutto il gioco cioè che è cartonato non si wolvenga però la lanta di metallo ok di sopra andato nel container voilà si 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 questa la faccio di cantellino va bene campero più dietro aspetto che eschca fuo eschca che eschca cosca ho già il coltello impugnato ci ho provato già l'ho lanciata across the map nooo vabbè manco eh vabbè ti vai a sinistra e vado a destra salito uno bravo è la tanto ancora dietro ottimo eccolo hai visto si 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 chi mi lo vinci così no che sfiga cacchio ma io ho anche sparato ho sbagliato tutto cosa hai fatto con la granata finalmente c'è problema questo qui camperone schifo cosa vuoi camperare con quest'arma cosa ne pensi di questa mappa una merda ok a che mi la carrecchimbole no copyright questo non posso metterlo allora come ho fatto a fare hitmarker da un centimetro di distanza scusa io leo madonna questo fucile è una roba distrutto prima ho fatto hitmarker adesso guarda che headshot io ho fatto mamma mia clean as fuck boiiiiiii ma vai io l'ho preso nello sternocledomastoideo e l'ho ucciso ma stimolante serve per recuperare vita è partita bene questa grande va bene stimolante no secondo me vai più veloce voilà mamma mia geo attenzione si redive subito a posto me ne vado il video il video finisce qui è tra l'ora che forza lo sparo ancora prima di mirare i trick e bassa gaccia un coltello da lancio uno push a la cosa e cosa cos'è uno push a la cosa è ancora lì occhio che arriva preso bravo no no l'avevo preso con coltello non è vero non è guarda adesso immagini il quattro dove passa guarda coltello dove passa non lo vedo non lo vedo eccolo guarda coltello era pulitissimo a casa vai francesco incredibile e vola first blood and second blood bello questa parte ad esempio questa parte del video è bellissima perchè io sono fermo e guardo una cosa e il round finisce è qui credo siano entrambi a destra e boh e boh e boh i germanici rispediti nelle loro terre teutoniche tornate ai vostri villaggi noi sole e tanga voi terra e vanga come si dice pezzi di merda in latino stercis precibus stercis precibus ok frank non si trovano più partite quindi direi che è un momento per chiudere il video no basta ciao a tutti buonanotte ciao kevlar